Seminario PSR sulla nuova politica agricola comunitaria, una novità sostanziale, la difesa dell'ambiente. Seminario di formazione organizzato da CIA che ha trasmesso agli imprenditori agricoli le novità delle nuove politiche comunitarie, molti cambiamenti in evidenza, soprattutto la difesa del benessere ambientale. Una giornata che vede gli agricoltori protagonisti a Pergola. Sì, con piacere abbiamo messo a disposizione il nostro teatro per ospitare questo evento, questa giornata dove appunto gli agricoltori sono protagonisti, l'agricoltura è protagonista. Abbiamo la fortuna di vivere in territori bellissimi e l'agricoltura è sicuramente molto importante. Chi si prende cura dei nostri territori svolge veramente un lavoro prezioso. Un cambiamento soprattutto per il benessere degli animali e ambientale. Per quanto riguarda il benessere degli animali è fondamentale anche perché ormai deve entrare, ma è entrata nella mentalità dell'agricoltore, dell'allevatore, che comunque si può avere un futuro sostenibile solo potenziando il benessere degli animali. Sotto i diversi aspetti, da quello prettamente del lavoro dei campi alla zootecnia, però è fondamentale mettere in campo tutte quelle azioni di sostenibilità come la sostenibilità ambientale. Ma nelle misure della PAC, della nuova programmazione PSR, adesso CSR, le misure agroambientali, quindi anche legate al biologico, al sostentamento proprio della natura, rimangono al centro e fondamentali e prioritarie anche per avere poi i contributi. In che modo questo nuovo programma contribuirà alla difesa dell'ambiente? In un modo decisamente diverso dal passato e che di fatto impegna un'importante fetta del plafond proprio a delle scelte aziendali che i nostri agricoltori italiani sono impegnati a fare nell'ottica della salvaguardia ambientale per la salvaguardia degli impollinatori, per la salvaguardia delle erosioni dei terreni, per il benessere animale, la riduzione dei farmaci veterinari, tutti i temi molto significativi che incideranno molto nel portafoglio anche delle aziende che faranno queste scelte. Il vostro sostegno agli agricoltori? Tutti i nostri uffici sono disponibili a offrire consulenza a tutti i nostri agricoltori a fare delle simulazioni per la nuova programmazione.